Tante maglie gialle, va direttamente in porta Flore, palla che rimbalza sul portiere ed entra in rete 1-0 per i canarini. Riconquistata, Tafuri può provare il tiro, invece scambia col compagno e poi da sotto porta Tafuri non sbaglia, 2-0 canarini. Parte Flore, direttamente in porta, palla che passa e arriva il 3-0 dei canarini con la punizione di Flore. Pallone sbagliato e riconquistato da Moretti che pensa alla conclusione, arriva il tiro alto però. Flore ha tutto lo spazio, è un 3-2, Tafuri si inserisce Mangione, va lui, poi lo serve, la mette sul destro, mette a sedere il portiere, arriva il 4-0. Decide poi di servire Tafuri sul secondo palo che di petto la mette giù per Petricca, arriva il tiro! Di Petricca, 5-0 per i canarini. Canarini cercano l'imbucata, ora Flore vede lo spazio per Mangione, torna ancora da Flore che prova col destro! 6-0 canarini e torna da Flore. Tempera, ha tutto lo spazio per girarsi e tirare, arriva il tiro, arriva la parata, ma arriva anche la respinta in gol. 7-0, prova il lancio lungo a cercare proprio Tafuri che sulla corsa controlla, poi la marca presente, arriva lo stesso la palla per Tempera, finisce in rete 8-0. E arriva qui il triplice fischio del direttore di gara, Canarini che si impongono per 8-0 sulla Mips. Buona serata e grazie di averci seguito, da Nicolò Piemontesi.